1 Vauscher, 2 Allison di Gaia, 3 Celeste Zen, 4 Carpe Diem Col, 5 Bacco Ido, 6 Badoglio Luis, in seconda fila 8 Ciuffolotto RL, 9 Zlatano P, 10 Ungaretti Ors, 11 Atina Risaia TRGF, 12 Umbral, 13 Catrin Rec, 14 Alonso CR. Settima corsa di Palermo in pista ai gentlemen, alla guida di anziani di categoria G, favori del pronostico per il numero 6 Badoglio Luis, problemi in fase di allenamento per uno dei più attesi, Zlatan OP, al comando prova ad andare Bacco Ido, contenuto per un po' all'interno da Allison di Gaia, che poi comunque non insiste più di tanto, terzo in questo momento è Carpe Diem Col, che prova a puntare in avanti, nel frattempo il capofila Bacco Ido viene preso in mano dal suo proprietario Giuseppe Pezzino, vediamo un po' i primi 400 metri, mentre per linee esterne prova ad avanzare Carpe Diem Col, 29 appena scarsi da 1,12,4 i primi 400 metri, con il capofila Bacco Ido, che continua a pedalare in avanti nei confronti di Allison di Gaia, per linee esterne Carpe Diem Col, 43,8 i primi 600 metri, piuttosto svelti devo dire, mentre in quarta posizione è ben sistemata Atina Risaia, che precede il favorito Badoio Lewis, come al solito non bellissimo in meccanica, ma è ancora lì pronto ad intervenire. Nel frattempo continua la trottata in avanti di Bacco Ido, che ha stampato 14,9, 14,8, quindi 29,7 gli ultimi 400 metri, adesso vediamo il primo chilometro di Bacco Ido, che sembra volerla prendere di petto, 1,13,6 il primo chilometro, davvero veloce da parte di Bacco Ido, e a questo punto a spostare dalla seconda pariglia è Atina Risaia, che prova a prevenire l'avanzata di Badoio Lewis su tutti i cavalli, appaiono abbastanza stanchi, d'altronde l'andatura è davvero notevole per questa categoria, con Bacco Ido, che comunque si mantiene ancora in evidenza, piano piano recupera Atina Risaia, al cui esterno prova ad ingambarsi Badoio Lewis, e vediamo l'arresta d'arrivo, Bacco Ido ancora ha un buon vantaggio, avanza Atina Risaia, a largo di tutti prova ad ingambarsi al meglio Badoio Lewis, che si avvicina a Bacco Ido, battute conclusive e si salva, si salva Bacco Ido e viene a vincere con Giuseppe Pezzino, a media di 1,14,9, davvero una bella e convincente vittoria per l'allievo di Carlo Giordano, Giovanni Pezzino dunque in auge sugli scudi, buon secondo Badoio Lewis, mentre di misura Atina Risaia conserva la terza moneta sfuggendo a Ungaretti Ors. Dunque vittoria di Bacco Ido, un cost to cost a media di 1,14,9 per l'allievo di Carlo Giordano, che ha preceduto il favorito Badoio Lewis, ingambatosi un po' tardi ma ha chiuso piuttosto bene, e buona terza la rientrante Atina Risaia, in numeri dunque 5, 6, 11, l'ordine d'arrivo ancora ufficioso della settima e ultima corsa di Palermo, Palermo che lo ricordo ancora vi dà appuntamento al prossimo convegno in calendario domenica 7 maggio. E per oggi dalla favorita è tutto. Grazie a tutti.